ciao a tutti eccoci qua ancora una volta insieme oggi parleremo di un argomento molto interessante anche molto importante per la nostra vita intanto aspetto qualche attimo che riusciate a collegarvi e poi inizio allora vediamo un pochettino io ho portato la mia tisana oggi ho portato una tisana con l'uvetta perché il dolce nutre come sapore ho messo all'interno delle fettine di zenzero importanti perché aumentano ossia mobilizzano le stasi e quindi aiutano a utilizzare l'energia che abbiamo a disposizione così come anche la buccia di pompelmo ho messo stavolta e una fogliolina di basilico perché tende a rinfrescarmi intanto che attendiamo di poter partire direttamente con questa nuova puntata vi spiego che cosa ho fatto stamattina mi sono svegliata molto stanca non so perché ho dormito tante ore dalle dieci e mezza di ieri sera fino a stamattina alle sette e mezza circa e poi mi sono svegliata stanca forse colpa del temporale non lo so non ho idea e allora ho deciso di aumentare aumentare tirare su un pochettino l'energia e ho fatto un bel impacco caldo con il sacchetto con i noccioli di ciliegio che tanti di voi hanno ho preso questo impacco l'ho messo nel forno l'ho scaldato bene 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 e poi l'ho appoggiato sul letto e mi sono stesa sopra e ho appoggiato la parte bassa della schiena nel punto specifico che chi ha fatto medicina cinese con me lo conosce si chiama Ming Men questo punto è importantissimo perché lì vi risiede viene prodotta parte dell'energia del nostro corpo quindi se vogliamo aumentare il livello energetico possiamo stimolare quel punto ovviamente l'ideale per la medicina cinese è la moxa ma visto che da soli la moxa non è facile farla e non è neanche conveniente dietro la schiena allora ho deciso di usare l'impacco caldo dove si trova il Ming Men sommità delle crestelia che quindi le ossa che voi sentite proprio a livello del bacino la parte superiore unite i pollici a livello della colonna e dice questo punticino chiamato Ming Men se ve lo scaldate lo tonificate perché il calore nella giusta quantità tonifica quindi aumenta l'energia quindi mi ha aiutato tantissimo stamattina ero molto stanca ho aumentato il livello di energia e poi nella tisana ho messo l'uvetta che nutre attraverso il suo dolce ho messo la buccia di pompelmo perché ricordatevi che la buccia degli agrumi così come anche lo zenzero muovono le stasi e quindi io non credo di avere una carenza di energia probabilmente ho una condizione di stasi di pesantezza voi sapete che noi abitiamo nella bassa padana quando piove c'è caldo c'è un'umidità una cappa che tende un pochettino ad appesantire e poi ho messo perché la fogliolina di basilico perché per me lascia un gusto abbastanza rinfrescante vi assicuro che in questi giorni anche da noi ha fatto un bel caldo bene allora oggi parliamo di lasciare andare è un argomento un po delicato perché ma ci tengo a trattarlo perché all'interno dello studio quando lavoro come pratico come naturopata mi accorgo che è uno dei tasti più dolenti da affrontare con la persona perché sentiamo nel ci sentiamo spesso nel diritto di avere di trattenere e di non lasciare andare provo a spiegarmi meglio provate a pensare a cosa ci propone ai giorni nostri la società cosa ci viene proposto più ce n'è meglio è tutto subito basta basta che voi ordinate qualcosa su internet a volte il giorno dopo c'è già e quindi non abbiamo neanche più bisogno di aspettare il ritmo e il tempo normale che ci potrebbe volere per ottenere qualcosa non siamo neanche più abituati così come ci propone la natura ad avere i vari tipi tempi di passaggio provate a pensare ogni stagione normalmente a un tempo in cui si esprime poi c'è la fase calante e inizia l'altra stagione noi non siamo più abituati i tempi per noi ormai sono un'agonia se siamo al computer e non risponde immediatamente c'è chi comincia a battere sul computer perché l'attesa non è più parte di noi invece è fondamentale uno degli aspetti della nostra vita che ci obbligano a un'attesa e che non è mai cambiata normalmente per esempio la gravidanza la gravidanza uno non può pensare di essere incinta e dopo tre settimane partorire il suo bambino è obbligato avere un tempo di attesa che a volte mette in crisi perché è lungo perché nove mesi perché ognuno ha le sue dinamiche ma è molto interessante vedere come non siamo più abituati né aspettare i tempi giusti ma soprattutto non siamo neanche più abituati ad avere solo esattamente quello che ci serve e basta facciamo degli esempi allora se la nostra società ci induce al tanto subito anche se è inutile anche se non ci serve immaginate o pensate ai vostri armadi quante persone hanno armadi pieni che in una stagione non si riescono a mettere tutti quanti quei vestiti eppure sono pieni quante persone tolgono dei vestiti dall'armadio in realtà per far spazio ad altri vestiti che se no non ci stanno quante persone regalano vestiti nuovi ancora con l'etichetta questa cosa fa riflettere perché in realtà acquistiamo addirittura cose che non riusciamo neanche a utilizzare non soltanto provate a pensare al cibo quanto cibo ingeriamo che non è fondamentale per noi quanto cibo mangiamo di cui non avremmo bisogno provate a pensare anche a tutti gli input che ci arrivano e riempiono la nostra vita provate a riflettere adesso lo sanno benissimo chi propone pubblicità anche sui social lo sa benissimo che i tempi sono rapidi e tutti gli input devono essere molto veloci c'è chi riempie la sua vita altrimenti con la musica questa è un'esperienza personale che ho fatto nel senso che in tanti periodi io amo avere sempre una musica musica di vari tipi ma è interessante perché ho osservato che cerco la musica quando non ho voglia di pensare o lasciare degli spazi vuoti e questo l'ho osservato in me anche la musica può fare questo effetto quindi possiamo pensare ai social le persone che prendono in mano il cellulare o si mettono sui social devo guardare solo una cosa e in realtà stanno lì mezz'ora un'ora il tempo passa e si riempie non soltanto talvolta tratteniamo non soltanto delle situazioni o degli oggetti ma anche delle situazioni delle emozioni delle persone la nostra capacità di trattenere la sviluppiamo nell'arco del tempo non so se c'è stato passato un po' dai nostri nonni che nel periodo di guerra avevano molto poco e quindi erano capaci di trattenere di conservare ai giorni nostri non è più così oppure adesso che c'è tanto cibo riempiono di cibo i nipoti perché ce n'è e questo per loro è un gesto d'amore in realtà non è salute la salute è un gesto un sono equilibrio tra ciò che entra e ciò che esce quindi tra ciò che porto dentro e ciò che sono in grado di lasciare andare allora vi porto un esempio molto importante che ho compreso dal Feng Shui quando ho fatto la specializzazione in Feng Shui mi ha molto colpito quest'idea proprio che arriva dalla medicina tradizionale cinese dove l'energia entra l'energia nella medicina cinese viene chiamata Qi l'energia entra all'interno di un'abitazione che è considerata un'entità viva l'abitazione entra all'interno dell'abitazione arriva al baricentro dell'abitazione quindi il punto centrale dopodiché viene distribuita nelle varie parti della casa se la casa è troppo piena o se io ostruisco con troppi mobili divano troppi oggetti ostruisco il percorso del CIA all'interno della casa questa casa non sarà in salute e sarà difficile anche per le persone che la abitano quindi è molto interessante perché gli operatori Feng Shui da una piantina cercano di tracciare un percorso sano del Qi all'interno della casa e questo è permesso quando ci sono delle giuste vie dei torrenti all'interno della casa di percorrenza per questo questa energia provate un po' a pensare nel nostro corpo non è così diverso nel nostro corpo l'energia come le sostanze devono fluire se ci sono delle ostruzioni fa fatica si ferma si intasa e si creano degli stasi le stasi è una condizione in cui si crea una diga e si riempie questa diga di acqua o se volete di ci si riempie questa diga e c'è una condizione di troppo pieno interiore il Feng Shui mi ha insegnato tanto da questo punto di vista e l'ho trovato molto interessante quindi la domanda è ma se la casa è troppo piena o se noi stessi viviamo una condizione di troppo pieno come posso per far far fluire l'energia in modo più sano proprio per noi dove pensiamo che l'aspetto sano della nostra vita sia legato all'avere e al trattenere mentre invece non è legato a lasciare andare liberare le cose scorrono noi dovremmo essere in grado di utilizzarle nella nostra vita e lasciarle passare invece come anche amicizia relazioni situazioni in cui fanno parte della nostra vita onoriamo la presenza di questa persona queste persone ma anche degli animali che abbiamo in casa con noi loro fanno un percorso un tragitto e poi proseguono invece quando se ne vanno quando muoiono in questi animali c'è la tragedia ci sono persone che portano in lutto per tantissimi anni tantissimi quando per esempio moro un cane non dico che sia sbagliato ciò che si vive è sbagliato trattenere ciò che si vive posso vivere determinate emozioni ma poi le devo trasformare lasciare andare devo nutrirmi di ciò che è di ciò che è stato ma sviluppare sempre di più la capacità di lasciare andare allora penso che la chiave sia pensare quante quante volte pensiamo a trattenere perché abbiamo paura di perdere qualcosa invece di pensare che se lascio andare faccio spazio faccio spazio per che cosa faccio spazio perché nella mia vita possa esserci ulteriore ricchezza un proverbio cinese dice di un vaso il pieno produce ricchezza ma il vuoto ne permette l'utilizzo di quel vaso e dovrebbe farci assolutamente riflettere allora pensiamo un po se è vera questa cosa dobbiamo ricordarci che il nostro passaggio su questa terra di cosa ci portiamo via di questo passaggio su questa terra soltanto le esperienze che abbiamo fatto ciò che abbiamo vissuto ciò che abbiamo provato e imparato perché anche carlo magno è partito a mani vuote tutti noi porteremo via qualcosa che è più importante della materia la materia appartiene a questo pianeta e qui rimarrà invece a noi appartiene qualcos'altro che è l'esperienza e tutto ciò che riusciamo riusciamo a comprendere e utilizzare provate a pensare in tibet sapete che ci sono questi monaci tibetani che fanno dei mandala con le sabbie colorate bellissimi bellissimi a volte ci mettono anche un anno a farlo poi prendono il mandala e onorano il fiume gettano questo mandala lo riversano nel fiume provate a pensare noi nella nostra società facciamo una cosa meravigliosa bellissima abbiamo vissuto un'emozione abbiamo creato un legame con questa cosa e poi sapete cosa facciamo lo buttiamo via noi nella nostra società non siamo abituati eppure ci farebbe molto bene quando io parlo di capacità di lasciare andare dobbiamo fare una premessa più importante che è legato al fatto che nella nostra vita accadono delle cose alcune le possiamo scegliere altre non le possiamo scegliere coscientemente quindi ciò che arriva dobbiamo imparare a trasformarlo per poi lasciarlo andare come si fa trasformarlo prendiamo esempio dell'apparato digerente l'apparato digerente come funziona la prima fase è la bocca arriva un cibo come una situazione lo metto in bocca quindi lo accetto questo cibo e lo mastico la funzione dei denti quella di masticare di semplificare allora provate a pensare se ci sono delle persone per me è stato così per tanto tempo con problemi ai denti sono persone che hanno difficoltà a semplificare nella vita ma se io nella situazione la prendo e la indurisco mi spacco i denti se io la situazione la prendo e la ingigantisco non riesco neanche più a metterla in bocca e quindi prima fase la prima che dovremmo utilizzare quella di semplifico è successo questa cosa va bene semplifico seconda cosa secondo aspetto è lo stomaco chi accoglie omogenizza i cibi quindi vi rende morbidi vi rende digeribile e questa è una cosa meravigliosa quindi accolgo e modifico questa sostanza la terza fase scende nell'intestino tenue e tenue e scelgo ciò che mi è utile quello che mi è utile porto all'interno del mio sangue e nutre la mia vita ciò che non mi è utile un cibo come una situazione lo lascio andare all'intestino grasso perché cosa succede l'intestino grasso riceve questo materiale l'elabora nella fase terminale prende le ultime cose che servono dopodiché prende questa massa la massa fecale e la lascia andare alle nostre spalle diventa concime per il pianeta quando noi siamo in grado di fare questa cosa nella nostra vita con le situazioni con le emozioni con le persone siamo in grado di trasformare e di seguire tutte le fasi che mi servono per far sì che ciò che accada diventa parte di me diventa una condizione utile certo è che con tante cose siamo bravi a fare con altre facciamo proprio fatica e allora provate a pensare nell'apparato digerente quando troviamo delle difficoltà è interessante comprendere a che cosa è legato perché normalmente è come viviamo la vita che produce delle reazioni fisiologiche esempio ci sono persone che hanno problemi ai denti ok forse facciamo fatica a semplificare persone che hanno bruciore all'esofago reflusso grasso esofageo quindi le situazioni anziché andare giù tornano su la valvolina non chiude bene quindi torna su la situazione continua a tornarmi su non mi va giù bruciore allo stomaco problemi allo stomaco quindi al modificare la materia la consistenza di quella materia perché sia digerita sono persone che ha problemi all'intestino tenue quindi hanno difficoltà a scegliere ciò che mi è utile da ciò che non mi è utile persone invece che hanno stitichezza le persone che fanno fatica a lasciare andare tutto lavoro è già stato fatto ma il pensiero di lasciare andare quell'ultima parte non ce la faccio invece ci sono le persone che anzi hanno continue scariche di diarrea ossia via 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 non ne voglio più sapere via guarda questa cosa mi attraversa finita non ne voglio non ci voglio più pensare quindi sono attitudini e atteggiamenti differenti che abbiamo nella vita che ci aiutano più o meno trasformare talvolta inibiscono anche la nostra capacità di lasciare andare la paura di un vuoto provate un po pensare la paura di un vuoto anche per esempio le persone che quasi tutte che fanno molta fatica a meditare è interessante non siamo abituati a creare il vuoto il nostro armadio quasi vuoto a tante persone spaventa il frigo mezzo vuoto tante persone non l'apprezzano anzi dal frigo se è pieno mi sento bene poi magari ne butto via la metà però se è pieno mi sento bene allora vi dico un esempio non faccio nomi la mia mamma per esempio lei ama a una casa piccolina ma ama riempirla riempire di foto oggetti forse ancora le tutine di quando noi siamo piccole il divano grande la riempiono per passare fa lo slalom in quella casa ma interessante per lei è molto importante per lei il cibo è molto importante avere sempre qualcosa dentro perché perché le persone tendono a riempire degli spazi forse ancora le tutine di quando io e mio fratello eravamo bambini le prime tutine quindi provate a pensare quanti sono i trattenimenti ho lavorato in trattamento con una persona che aveva difficoltà a lasciare andare grandi difficoltà per esempio le cose scadute dal frigo non le buttava via ci pensava il marito non soltanto i bagno schiuma i profumi quello che lei usava in bagno ne teneva sempre tanto così nel contenitore così non lo doveva buttare via i farmaci scaduti li teneva comunque perché così se stava male sapeva che cosa aveva utilizzato ed è stato molto interessante lavorare sulla capacità di lasciare andare ci sono delle persone che hanno risolto problematiche di stitichezza non con rimedi non con farmaci ma imparando a lasciare andare ve lo assicuro tante volte il rimedio è trovare la soluzione per muovere quella condizione non tanto un rimedio che assumo perché anche nelle altre dirette vi ho parlato dei rimedi naturali legati agli elementi naturali oggi invece vi spiego che all'interno dello studio quando lavoro l'obiettivo non è tanto il rimedio ma trovare la chiave per muovere quel tassello perché ogni volta che muovo un tassello muovo un intero insieme se riesco a comprendere l'importanza di lasciare andare riesco anche a capire che qualsiasi cosa accada per riuscire davvero a trasformarla e ad accogliere deve imparare ad essere grata è una cosa forte quello che dico molto forte perché ci sono tante situazioni che sono dure che sono difficili e avete tutta la mia comprensione e non che io non ne abbia vissuta mio mio caro che davvero faccio un buon lavoro con me stessa quando imparo ad accogliere anche quello che non ho scelto imparo ad accoglierlo e sono grata per l'esperienza per ciò che io posso imparare perché l'unica cosa che mi serve davvero nella vita l'unica cosa è ciò che io posso imparare da ciò che accade e allora ho cercato e sono grata per il periodo che abbiamo vissuto del covid ho cercato di capire quali sono stati gli aspetti che per me sono stati importanti non solo anche io ho avuto un lutto importante rispetto al covid ma cerco di comprendere che cosa ho da imparare che cosa posso portare dentro di me e prima di parlarvi di quali sono gli strumenti che potete utilizzare nella vostra vita possiamo anche cercare di utilizzare un detto che mi piace tantissimo che poi non so più se arriva dai cinesi sapete che ci sono tutti quei proverbi che li dicono in tanti non si sa mai anche attribuire ma è bellissimo che dice quando arriva il vento del cambiamento costruisci muri o mulini a vento dovete riflettere ve lo dovete segnare questa frase quando arriva il vento del cambiamento costruisci muri o mulini a vento la vita fluisce per la vita quando arrivano degli stimoli dall'esterno a volte sono schiafoni questi stimoli a volte sono improvvisi bene posso decidere se fare resistenza costruisco muri di questa cosa non voglio sapere sento che questa cosa è ingiusta creo resistenza oppure che è una linea vento ossia sfrutto quel che è successo per creare qualcosa di positivo se crea un muro e lo posso fare a volte in alcuni periodi non sono in grado di fare nient'altro se non costruire un muro va bene però ricordatevi sempre che quando io costruisco un muro il vento è in grado anche di abbatterlo quel muro è tempo perso perché prima o poi lo dovrò scretolare farò il doppio della fatica e non soltanto quando io creo un muro dall'altra parte c'è una condizione di forte pressione proprio perché ha creato un muro invece di far fluire che era il muro e c'è pressione immaginate la pressione alta immaginate la tensione la pressione che vive interiormente anche da un punto di vista fisiologico forse ho sbagliato a creare qualche muro e quando parlo con alcuni utenti dico sempre che secondo me l'essere umano dovrebbe un po' essere come una pianta le radici affondate nel terreno il tronco robusto le nostre radici quindi che creano nutrimento il tronco quindi il nostro corpo sano e robusto e le nostre braccia verso il cielo che cosa succede le nostre braccia verso il cielo che sono flessibili al vento perché se sono rigidi si spezzano se le radici non sono sufficientemente radicate il vento il l'albero viene abbattuto facilmente dal vento non soltanto la pianta si adegua allo scorrere delle stagioni e quindi c'è il momento in cui è nuda la pianta poi rinasce poi fa le foglie poi fa i frutti e i frutti sapete che cosa fa quei frutti a un certo punto quando è il momento li lascia andare non è che li trattiene sul ramo sono i miei e me li tengo tutto io lascia scendere i frutti lascia fare la loro strada non soltanto i rami quando c'è il vento che li sbatte da tutte le parti lo lascia scorrere la pianta lascia che il vento scorra attraverso i rami e la può scuotere la può far tremare può spezzare qua e là qualcosa ma la pianta rimane eretta un po' come dovevamo fare noi quando arrivano quelle situazioni nella vita che ci scuotono ci ribaltano anche interiormente bene come la pianta sappiamo che il vento che arriva poi passa il vento prima poi finisce questa notte c'è stato un temporale molto molto forte bene è passato è tornato il sole ogni volta se io invece faccio il muro contro quel vento che stava passando la pianta è destinata a spaccarsi tutta questo dovremmo imparare a fare nella vita non soltanto allora proviamo un po' a pensare come possiamo vedere se nella nostra vita stiamo creando dei trattenimenti facciamo fatica a lasciare andare per esempio ci sono persone che hanno difficoltà intestinali questo può essere un'indicazione oppure l'apparato respiratorio l'apparato respiratorio è legato a un continuo scambio tra l'interno e l'esterno e quindi dobbiamo vedere se abbiamo dei sedimenti muco sinusite asma quindi anche il trattenere l'aria non soltanto parliamo della circolazione linfatica quando per esempio abbiamo le gambe gonfie quando abbiamo dei sedimenti trattenimenti anche degli spessimenti